Tutto comincia da una scintilla. Ogni progetto, piccolo o grande che sia, ha un inizio. Ha bisogno di un impulso che gli dà la forza per crescere, alimenta le nostre idee e contribuisce allo sviluppo sostenibile del paese. Noi di Biperbanca siamo quella scintilla che può farvi crescere come abbiamo fatto noi. Oggi una grande banca italiana. Perché una scintilla è sempre l'inizio di qualcosa di grande. Biperbanca, dove tutto può iniziare.